Io mi chiamo Giacomina Castagnetti, accetto sempre e volentieri quando mi chiedono di raccontare la mia storia, non perché sia molto importante o interessante o particolare, ma solo perché ho vissuto nel periodo più buio della storia d'Italia, cioè nel periodo della dittatura fascista e della Seconda Guerra Mondiale. Sono nata da una famiglia numerosa di mezzadri a roncolo di Quattrocastello. In che anno è nata? Sono nata nel 1925, ero l'ultima di sette fratelli, quindi io ero l'ottava, sei maschi e due femmine. Sono nata nel momento che mio padre era morto da tre mesi, quindi mia madre vedova con otto figli. Siamo state sempre una famiglia molto unita. Mia madre, solo perché era una donna, non poteva essere capofamiglia, quindi non poteva avere la patria potestà sui figli. Il tribunale ci ha assegnato un tutore che doveva controllare le miserie di una famiglia mezzadra, quindi era venuto a contare quante forchette c'erano in casa, i cucchiai, i mobili, tutto quanto, perché nessuno, dato che eravamo minorenni, dovevano tutelare che questo patrimonio rimanesse intatto. Ho incominciato la scuola a Roncolo e solo perché era una scuola in una zona agricola c'era solo fino alla terza elementare. E quindi in questa scuola io ho incominciato ad andarci con gli zoccoli ai piedi, con una borsa di tela e due quaderni, una riga e una quadretti, un pennino a forma di manina e un sillabario molto consumato perché era passato da tutti i miei fratelli ed era arrivato fino a me. Nella scuola c'era un grande strissione che era stato pitturato malamente dagli alunni che mi avevano preceduto con la scritta, il Duce ha sempre ragione. Quindi tutto era impostato e convogliato per che la gente pensasse a queste cose, che il Duce non doveva essere mai contrastato e che il Duce, quello che diceva lui, era sempre giusto. Al mattino ci davano un cucchiaino di olio di merluzzo, ai maschi un cucchiaio intero e alle donne un mezzo cucchiaio. Questo non mi dispiaceva perché era sempre cattivo e ragido, quindi questo non mi dispiaceva affatto. Però questa era già la discriminazione che c'era tra un uomo e una donna. A scuola si faceva poca matematica ma molta ginnastica perché doveva forgiare il fisico. Quindi due ore si trascorrevano, non c'era una palestra ma nel cortile della scuola, anche d'inverno quando era freddo, lì si faceva ginnastica che doveva poi culminare con una grossa manifestazione del saggio ginico nella piazza del comune. Quindi noi eravamo tutte prese per questo saggio perché era il momento che ci esibivamo proprio alla presenza dei nostri genitori e di tutto quanto. Però bisognava, il Duce voleva che fin dalla tenera età tutti avessero la divisa. Figli della lupa, il balilla, le piccole italiane, gli avanguardisti. Quindi tutte le mamme erano iscritte alle massaie rurali, veniva distribuito degli opuscoletti perché imparassero a levare i polli, a coltivare l'orto, l'orto di guerra lo chiamavano già. E quindi tutta la famiglia era inquadrata, giusto. Alla mamma il Duce aveva dato disposizione che a tutte le famiglie numerose venisse dato un diploma. E particolarmente la nostra perché c'era sei maschi e due femmine. Quindi questo diploma doveva essere esibito in casa sempre in bella vista perché tutti potessero vedere che il Duce aveva riconosciuto queste famiglie che avevano messo a disposizione della patria mano d'opera e anche per prepararsi alla guerra. La prima umiliazione che ho avuto, avevo sette anni, mia madre non aveva la possibilità di comprarmi la divisa da piccola italiana. Quindi non potei andare alla grossa manifestazione del saggio ginico che io ho tanto sognato per essere in mezzo a tutte le altre perché non avevo la divisa. Non ho mai saputo se effettivamente era perché non c'erano i soldi o perché mia madre non volesse mettermi in divisa. Comunque l'ho capito forse più tardi. E fatta la manifestazione in classe hanno distribuito a tutti i partecipanti un uovo di Pasqua. Era la prima volta che io vedevo un uovo di Pasqua con questa carta colorata, lucida. Per me era una cosa straordinaria. Però con il cestino l'insegnante mi passò davanti e io non ero degna dell'uovo di Pasqua. Quindi hanno distribuito l'uovo di Pasqua a tutti gli altri e io no. Potete immaginare la disperazione di una bimba di sette anni che va a casa e che per un motivo per me superfluo perché non avevo la camicettina bianca e la gonna nera. Questa cosa lo voglio dire dopo che ho avuto un figlio e una famiglia mia che ho raccontato a mio figlio cosa mi avevano fatto a sette anni. Lui da allora tutti gli anni mi regala un grossissimo uovo di Pasqua.